Ciao ragazzi e bentornati alla World Truck di Pokémon Rumble Adesso faremo la Battle Royale di grado C Un attimo ragazzi che abbasso un po' il volume Ecco qua Nella Battle Royale è una roba molto semplice da fare Bisogna rimanere in vita e far fuori tutti quanti i nemici nell'arena Alla fine incontreremo tre boss che sono questo Questo E questo Dalle ombre si... avete sicuramente riconosciuto chi sono Non è difficile Comunque iniziamo subito Ogni Pokémon che faremo fuori ci lascerà Del tempo extra Infatti vedete che in alto destra abbiamo il tempo Una volta finito abbiamo perso Nelle Battle Royale potremmo usare soltanto tre Pokémon E non potremmo cambiarli Quindi bisogna sempre scegliere un Pokémon con cui sia abbastanza bravi da utilizzare Oppure che abbia delle buone mosse Notiamo che prima con il nostro Rattata al inizio non facciamo niente Adesso invece con un colpo facciamo fuori quasi tutti quanti Sotto il tempo c'è anche il numero di Pokémon che saranno presenti alla Battle Royale Tipo in questo caso ne mancano 27 per finirla Ok Altri 23 Questo QQ con il nostro club fa fuori subito i nemici Senza troppi problemi Altri 18 Già 7 Ecco adesso ho un paio di tre boss Che sono Vaporeon Joltelon E Flareon Eccolo qui Ok Intanto prima facciamo fuori gli altri nemici E poi pensiamo ai tre boss Che intanto si legneranno tre di loro No Intanto ho già fatto fuori uno Due E così abbiamo vinto la Battle Royale del grado C E riceveremo il nostro premio C'è una buona quantità di soldi 500 Prendiamolo E così abbiamo finito il grado C E adesso abbiamo l'accesso al grado B Ok andiamo subito Salvataggio E adesso Scusate L'avventura che culminerà Nella vittoria finale E' appena cominciata E questo indica che avremo ancora molto da fare Ed eccoci al grado B Adesso dovremo rifare un'altra volta Tutte quante le sei aree del gioco Però Diventerà sempre più difficile Infatti vedete con le portone chiuso Servono un Pokémon molto più forti per entrare Quindi io direi di concludere qui la parte Nella prossima parte iniziamo Il Bosco Chiete Ciao a tutti